Ben trovati l'altigi della mobilità, gli eventi previsti per la giornata di domenica con riflessi sulla circolazione dalle 11 alle 13 a Cinecittà. Un corteo religioso si snoderà lungo il quartiere con partenza e arrivo a piazza San Giovanni Bosco a Centocelle, un evento in via De Castani tra via De Glicini e piazza San Felice da Cantalice. Dalle 7 a mezzanotte deviate le linee del quartiere. In centro si svolgeranno due manifestazioni ipodistiche, la prima dalle 9.30 alle 11.30 con partenza e ritorno in piazza Bocca della Verità, l'altra dalle 9 alle 11 con partenza in piazzale Numa Configlio e arriva allo stadio Nando Martellini. Deviazioni per 19 linee di bus all'Eur manifestazione in Viale Europa tra Viale Tupini e Viale Pasteur. Deviate le linee 31 e 780. Infine dalle 18 all'Olimpico si gioca Roma-Napoli per il campionato di calcio di serie A previsti di vieti di sosta. È tutto per questa edizione.